Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Sulla variante di Valico della 1 per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, la notte del 3 novembre, in orario 26, sarà chiuso il tratto compreso tra Aglio e il Bivio con la variante di Valico La Quercia verso Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!